Salve a tutti i miei cari zecchini e ben ritrovati in questo nuovo video di StumbleGuys Allora ragazzi subito un bel pollicione su un bel mi piace perché ho visto che il video scorso l'avete visto in più di 200 persone, pochissimi like ragazzi e ho visto che l'83% non è neanche iscritto al canale di quelli che hanno visto il video quindi ragazzi iscrivetevi al canale e attivate la campanellina che ritorneranno molto presto le live ho visto anche che pochi di voi sono arrivati in fondo al video scorso perché ho vinto la corona nell'ultima gara però ho visto che in pochi l'hanno scritto quindi molto pochi sono arrivati in fondo al video comunque ho preso una, mi ha dato una skin leggendaria se non sbaglio, quella di MrBeast l'ho presa prima, non è venuta nel video ma va bene lo stesso adesso ci da 5 gemme, c'è anche una speciale che non l'ho presa va bene, comunque, ah il giro di ruota ce l'ho fatta fare facciamoci una partita allora ragazzi voi come sta andando la scuola? Tutto a posto? Tutto bene? questa settimana, oggi è lunedì, ricomincio la settimana ragazzi però non vi preoccupate, piano piano arriverà Natale poi ci sarà Carnevale, Pasqua e risarà di nuovo subito estate mamma mia quanto ci mette però peccato non potrei fare tagli perché ovviamente così senza pc non si può editare, mi tocca fare video da cellulare, è un bel casino io il 23, no il 23, cioè venerdì, questo venerdì scenderò giù a casa mia che ho comprato la macchina mi è arrivata quindi scenderò giù con Lady Bea, prenderò la macchina nuova caricherò un bel po' di roba e tra cui caricherò pure il pc ragazzi cercherò di farmi una piccola postazione qua intorno però la casa ragazzi è veramente piccola ma cercherò veramente di farmi una postazione per poter farle live mi avevo chiesto nel video scorso se volevate il tour della casa mi hanno risposto solo in due mi sa solo che oh no, non sono riuscita mi ha risposto solo, mi pare, Carletto e Lupin se non ricordo male comunque ragazzi arrivate fino a un fondo al video rispondete alle domande che vi faccio lasciate like, non ve lo scordate ve lo ricordo, l'83% di voi che ha visto il video scorso non è iscritto al canale ragazzi iscrivetevi al canale, non costa nulla è gratis e mi date un grande supporto per vincere le corone madò che botta oh ma che fa, ma cammina ma vabbè ce l'ho fatta perlomeno quella ce l'ho fatta l'avrei voluta per ultima però vabbè nello stesso anche per prima basta che per ultima non mi dia blocco d'asso perché sennò ho perso sicuramente il fatto ragazzi è che per giocare da cellulare più chiacchierare per parlare con voi mi confondo e perdo ho visto un dirigibile che mappa sarà quella? mi mancano un sacco di mappe perché ho giocato veramente pochissimo in questo periodo chi mi segue lo sa oh ma poi è lento sto vecchietto è proprio veramente lento oddio, oddio ce l'ho fatta comunque torno a ripetere senza il cecchino dietro che mi prende a cazzotti è tutto molto più semplice mamma mia come sono veloci però tra tutti chi è? oddio, aiuto, 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 aiuto oh dai pieno non ti accostare al muro dai 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 che la puoi fare? oh ma qui c'è uno zecchino che vince non ti azzardare sai è mia la vittoria peccato che non era l'ultima peccato che non era l'ultima sono riuscita a vincere ma se fosse stata l'ultima era meglio dai su veloci che qui non abbiamo mica tempo da perdere comunque vi ricordo anche che chi non si iscrive al canale non riceve regali a Natale quindi ragazzi cliccate da quel tastino iscriviti ok iscriviti e diventa uno zecchino dai su no però aspettate qui ho il pugno sul pc ho la scivolata ma qui ho il pugno quindi potrei usare un po' di pugni per vincere ma non vincerà mai il laser mi costa fatica mi viene l'ansia dopo un po' oh però non voglio bruciare per primo quello si quante skinne nuove hanno messo? ho visto che hanno messo anche le carte nuove ragazzi di Istanbul io ho smesso anche di prendere le carte purtroppo ho l'album a metà chi non ha visto il video dello spacchettamense ragazzi tornate pure indietro nei video precedenti trovate il video spacchettamense oddio oddio e dai levatevi di qui aiuto no no non vincerà mai non ce la farò mai oddio oh 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 attenzione dov'è? dov'è l'altro? aiuto no ma non è vero ma non è vero ma mi è perso dal nulla ma dai ma non è vero ma dai però uffa eh le pubblicità dai pensavo di aver vinto non ho visto quell'altro mi è perso dal nulla mi ha spaventato non vale non si fa così c'ho tre missioni da riscuotere riscuotiamole una oh dieci gemme le riscuotere e non me le fa riscuotere due e tre oh anche cento stelle riscuoti riscuoti si ma riscuoti ok boom boom facciamo un altro carletto nel video scorso o nel video di clash royale non mi ricordo in uno dei video mi ha scritto se faccio among us ma non lo conosco io quel gioco lì dovrei informarmi bene e vedere non lo so se ora ti guarderò qualche video che hai messo te di di among us se mi attira il gioco che è carino magari lo provo ma adesso ho veramente un sacco di cose da fare ragazzi stare dietro a tutto non è facile non è proprio per niente facile poi qui se il stumble gas si desse una mossa oh lo scivolo di nuovo per prima ora la devo fare però il trick eh almeno il primo trick fammelo fare allora ok partiamo di qua no no ma dai hai visto quella era il primo trick avete visto ragazzi lo sapete fare voi io so fare anche quello oh chi ha che tira le banane oh ottimo ottimo direi allora vado su nel blu e nel dipinto di blu oh ce l'ho fatta oddio oddio mio corri 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 ma poi mi sta tutto storto il video non capisco niente oh ho visto un missile passare lì allora vediamo se mi lascio fare questo non prendere non prendere non prendere non prendere niente ha preso dai su che siamo primi lo stesso vabbè allo scivolo sono sempre un fenomeno ora non per vantarmi però dai il brutto che mi dispiace ragazzi non vi posso editare video perché la cellulare non mi riesce se avessi il pc fare tutto da pc tutto molto più semplice non posso fare le copertine tutto un problema ragazzi però voi continuate a supportarmi che poi mi viene anche più voglia di fare le cose una volta che avrò il pc su su se non avete ancora lasciato like fate pause like e ricominciate a rivedere il video mi raccomando eh allora su qualcosa di nuovo no di nuovo no perché si faccia ecco oddio se da qua oh cavolo mi si è copersa mi si è copersa anche stavolta spero che si picchino tra di loro mamma mia no non mi riesce a fare cioè ho proprio paura anche a saltare ah ah oddio non mi picchiate non mi picchiate vi picchio io no non ho preso nessuno non l'ho capito aiuto e non mi spingete no dai no dai oddio quanti ne sono cascati solo due ecco fatto sono morto stai qui da solo stai qui da solo mettiti qui mettiti qui bravo mettiti qui bravo oh volete cascare di sotto oh qualificato bene già che non me la dà per ultima questa è già un'ottima cosa ora io non voglio né laser e neanche block dash perché lo sapete che io sono mappe che non so fare soprattutto da cellulare è veramente difficile ma cos'è questa no io questa non l'ho mai vista shark muda triangle shark muda triangle e che devo fare beh ok la nave è partita vedo uno squalo lì oh smettetela un po' ecco ah devo andare qui sui barili vero no vai 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 quindi aiuto 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 salta ma ho saltato dai però non è giusto ho saltato ah la nave affonda questi stanno sulla nave fammi un attimo vedere come funziona un po' la ah si può stare sulla nave ok sta affondando la nave sta affondando ho capito ho capito come funziona io mi ero buttato per primo perché ho visto l'iceberg e mi sono spaventato vabbè qui non c'è non ho più niente da fare riscuoto questa robaccia che ho ancora pubblicità vediamo se c'è qualcos'altro da fare da riscuotere ma non credo non penso ci sia altro da riscuotere il negozio come è messo vediamo si gratis se guardo i filmati ma non in assolutamente voglia vabbè ragazzi allora io vi saluto così mi raccomando ragazzi iscrivetevi attivate la campanellina dobbiamo arrivare a 10.000 iscritti noi ci vediamo nel prossimo video ciao zachini